Un appuntamento con il Salotto dell'Arte qui alla Biennale d'Arte Contemporanea del Belvedere di San Leucio. Noi siamo all'interno della sala che ospita la sezione Campania Semperfelix curata da Enzo Battarra e io sono con Andrea Petrone che è tra gli artisti di questa sezione. Intanto grazie naturalmente per aver accettato il mio invito Andrea. L'essere inserito in questa sezione dove ci sono artisti, i tuoi colleghi, naturalmente campani e soprattutto con il simbolo tuo che è quello che tu ormai da tanti anni porti avanti che è il nostro Totò che è il simbolo della Campania. Ecco ci racconti qualcosa e soprattutto ci dici il titolo di questa tua opera? Allora io sono stato molto contento dell'invito di Enzo Battarra che è un notissimo critico d'arte e ho pensato di portare quest'opera che il titolo dell'opera è Il cappello in Vesevo. Quest'opera l'ho portata appunto perché riguarda un pochettino la Campania. Io sto nella sezione Campania Felix quindi è un rapporto diretto, intimo. Nell'opera c'è Il principe, il mito che io porto ormai avanti da un trentennio, l'ho esportato anche all'estero, New York, Boston, tante capitali del mondo. In quest'opera c'è il nostro Vesuvio, Vesevo, da cui fuoriescono queste immagini, opere di arte contemporanea. Anche perché Napoli è sempre stato un grande crocevia di tanti grandi artisti che hanno operato, specialmente quando c'era Lucio Melio, il grande gallerista ormai scomparso da tempo, che ha dato tanto lustro all'arte italiana e anche all'arte estera, portando tutti i più grandi artisti da Andy Warhol a tanti altri. Perché Totò? Perché hai scelto Totò? Io ho iniziato a lavorare su Totò nel 1998 anche perché lo reputo uno dei più grandi artisti in modo totale, non solo attore di cinema e di teatro, che è stato conosciuto per quello, ma lui è andato oltre, è andato al di là, è diventato un'icona, un'icona è stato per me un grande filosofo, musicista, insomma in tutti i campi dell'arte è stato uno grandissimo. Un simbolo non solo della Campania ma io direi anche dell'Italia intera. Ecco, ti dico una cosa, quando feci la mostra a New York, la prima mostra che ho fatto nel 2005 a Boston, c'erano tantissimi italo-americani e loro si ricordavano ancora di Totò, però c'era un problema che i figli e i nipoti non lo conoscevano e quindi diciamo che è stato anche un modo per farlo conoscere all'estero, capisci? Senti, tu sei stato sicuramente tra gli artisti che subito hanno detto sì all'invito di partecipare alla Biennale. Sì, perché mi piaceva molto questa idea della Campania Semper Félix. È un'idea, prima di tutto, il luogo è eccezionale. Qua ci sono ancora adesso le seterie che Ferdinando IV portò nel mondo. È un luogo eccezionale da cui poi dal Belvedere si vede il Vesuvio che è uno spettacolo e si vede anche la reggia di Caserta. Quindi diciamo che è il nucleo centrale. È un posto favoloso per me. Per te Andrea c'è un omaggio, un omaggio in seta dell'azienda Silk & Beyond che ha voluto omaggiare gli artisti della sezione Campania Semper Félix con un runner di seta da tavolo. Allora Andrea che ne dici? Io ringrazio naturalmente la Silk & Beyond per l'omaggio che ha voluto fare ai nostri artisti della sezione Campania Semper Félix e naturalmente ringrazio Andrea Petrone. Sicuramente avremo occasione di rivederci. Grazie ancora e il Salotto dell'Arte continua. Grazie a tutti.